importante anche a livelli occupazionali, perché se noi torniamo a produrre in modo consistente questo tipo di elemento, di materiale, sicuramente ne avremo giovamento anche in termini economici, ma soprattutto ne avremo giovamento in termini di visibilità, di identità. Noi non dobbiamo avere paura o vergogna, la nostra storia è una storia millenaria, che non tutti hanno, che pochissimi hanno, e che pochissimi conoscono. Quindi il ringraziamento che io faccio a questa organizzazione, al presidente Puscedu che porta avanti con determinazione questa, io chiamo missione, perché è proprio una missione, è soprattutto inculcarla alle nuove generazioni, ai professionisti, a coloro che devono declinare in realtà quotidiana questo valore.